Anticipazioni una vita trama puntate 14 19 novembre 2016 Manuela medita vendetta lunedì 14 novembre 2016 Nella puntata di oggi scopriremo che Casilda, ancora impegnata nella ricerca dell'amore per Lolita, organizza un appuntamento al buio con Jacinto, un uomo che aveva messo un annuncio sentimentale sul giornale. Nel frattempo vedremo che Trini, accusata di furto, ovvero di aver rubato dei gioielli dalla cassaforte di Ramon, cercherà di ottenere almeno la comprensione dell'uomo e si recherà da lui per tentare di difendersi dalle malelingue, ma scoprirà che Ramon ha nei suoi confronti un atteggiamento di freddezza. Martedì 15 novembre 2016 Manuela è sempre più distrutta dal dolore ed in carcere non riesce a parlare con la polizia per spiegare ai giudici la sua versione dei fatti. Vige in lei un senso di apatia che potrebbe rivelarsi molto pericoloso. Intanto Trini è sempre più convinta a lasciare Casias 38, ma nello stesso tempo sa di non voler passare per l'adra. Leandro le offre un posto di lavoro nella sua sartoria, ma il primo atteggiamento della ragazza è il rifiuto. Mercoledì 16 novembre 2016 Cayetana è sempre più convinta del suo piano. La donna infatti sa che i falsi testimoni faranno la loro parte contro Manuela e così finge interesse per accalappiarsi la fiducia di Herman. Nel frattempo però quest'ultimo riesce a trovare i testimoni che hanno inventato la loro falsa testimonianza ed ottiene che ritrattino la loro dichiarazione falsa con la corruzione. Guadalupe quindi si rega in carcere da Manuela. Pablo si mette a piangere, ma sebbene Leonor cerchi di consolarlo, Rosina non prende bene la debolezza dell'uomo. Giovedì 17 novembre 2016 Nella puntata di oggi scopriamo che Manuela asserisce di voler parlare con l'ispettore. Tutti sembrano risollevati all'idea che la donna possa voler affermare la sua verità, ovvero di essere innocente, ma la donna invece si dichiara colpevole. La sua decisione getta nel panico gli amici più chiari della donna, è lo stesso Herman che non sa cosa fare per far sì che Manuela esca dal suo stato di Catatonia. Venerdì 18 novembre 2016 Dopo aver ricevuto il posto di lavoro da Leandro come commessa nel suo negozio di Sartoria, Trini, che inizialmente aveva rifiutato, inizia a credere che dietro l'atteggiamento freddo di Ramon si nasconda Lourdes. Così, decisa a far sapere a tutti la verità e a far capire di essere sincera, accetta il posto di lavoro. Nel frattempo Victor si ricorda che Giacinto non è affatto un gentiluomo ed accorre in aiuto di Lolita insieme a Servante, ma una volta giunti sul posto i due si accorgono che la donna si è già saputa difendere da sola. Herman, nel disperato tentativo di scuotere la sua amata, le rivela che dietro l'accusa di omicidio si cela un losco piano di Cayetana. Basterà questo a farle capire che deve lottare? Sabato 19 novembre 2016 Nella puntata di oggi vedremo nuovamente Herman parlare cuore aperto con Manuela. L'uomo, per scuoterla dal torpore, in cui sembra essere caduta a causa dello shock della morte di Innocenzia, le prega che se continuerà così e soprattutto che se vuole morire anche lui, prenderà la stessa decisione. Cosa farà adesso Manuela? Se il video ti è piaciuto metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti.